Questo programma è offerto da Tecnocampus Venerdì 5 aprile, buongiorno da te prima Benvenuti anche oggi a questa quotidiana rassegna stampa Che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus Anche oggi tante le informazioni in primo piano A partire dalle liti nel governo Ma cominciamo subito a vedere quelle che sono le notizie fondamentali Lo facciamo questa mattina con le testate nazionali E partiamo con il Corriere della Sera Rimborsi, il tema è quello della lite nel governo Movimento 5 Stelle, rinvio per il decreto sulle banche La Lega, troppi nosi cambi passo E vediamo che ci sono ancora tensioni tra Conte e Tria Salta la norma via libera al salvo intese Solo al testo della crescita E infatti il premio Conte si era detto ottimista Praticamente fino all'ingresso del Consiglio dei Ministri Una soluzione si sarebbe trovata, ripeteva Invece i risparmiatori truffati dalle banche Dovranno aspettare per ottenere i rimborsi Il decreto per i risarcimento è saltato La riunione del Consiglio dei Ministri Ieri si è chiusa infatti in serata con l'approvazione del provvedimento Che dovrebbe stimolare la crescita con la formula del salvo intese Ma niente rimborsi attesi dai risparmiatori L'esito soddisfa il Vice Premier Pentastrellato Luigi Di Maio Non la Lega, troppi no e troppa lentezza Serve un cambio di passo nel governo E vediamo ancora quali sono i timori del Carroccio Il conflitto che ci danneggia Ora spuntano i timori della Lega Il conflitto permanente danneggia anche noi E il Tesoro avverte Non si migliora l'economia Per decreto E intanto le falle di Rousseau Multa al sito di Casaleggio Il garante per la privacy Ha infatti multato il sito di Casaleggio Rousseau contestandone la vulnerabilità Il voto può essere alterato E ancora spiegagli sulla Brexit Nell'editoriale di Paolo Lepri di quest'oggi Brexit o non Brexit Niente resterà come prima Nella politica del Regno Unito Nei rapporti con l'Europa Il partito conservatore sembra destinato a rimanere sotto le macerie del terremoto che ha provocato Dimissioni e defezioni verso il centro ce ne sono già state Ma siamo solo all'inizio I saggi stanno a guardare perplessi E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano L'idea di Europa è quella che viene considerata un vero e proprio marparadosso Infatti secondo la mitologia greca L'Europa è nata sulla costa asiatica Tiro per la precisione La sua prima menzione la troviamo nella teogonia di Esodo Infatti parliamo dell'VIII secolo avanti Cristo Dove Europa era la figlia di Agenore Re dei Feaci E fu rapita da Zeus Che innamorato se ne prese le sembianze di un toro La portò a Creta La fece fare tre figli Il primo Minosse E la diede infine esposa al re Asterione Insomma un po' di storia proprio su questa definizione di Europa Che sembra proprio renderci più avvinti in tutta questa vicenda E ancora vediamo nella prima pagina del Corriere della Sera La mossa del generale Stamattina è viva l'idea di guerra Infatti l'appello di USA, Italia e Francia si fermi Libia-Aftar attacca e avanza su Tripoli Infatti torna a salire la tensione in Libia Le truppe dell'uomo forte della Cirenaica Aftar rinanciano la loro avanzata sulla capitale Aftar infatti mostra i muscoli E lo fa proprio in vista della conferenza per il 14 e 16 aprile Lo scopo arrivare all'appuntamento da una posizione di forza Appello abbiamo detto appunto degli Stati Uniti Dell'Italia ma anche della Francia Per una de-escalation E intanto è ancora polemica in Italia Per la nave tedesca con i migranti Mentre Salvini decide ovviamente la chiusura E infatti è blocco navale contro la ONG tedesca Matteo Salvini chiede alla Germania Di impedire l'arrivo a Lampedusa Della Lannacurdi con i 64 migranti a bordo I profughi sono stati salvati mercoledì alla deriva Su un gommone durante un nobifraggio E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Torino un caso veramente senza Ovviamente con brutti risvolti L'assassino di Leo era libero per un errore Per un fascicolo non trasmesso Infatti l'assassino di Stefano Leo Ai Murazzi di Torino doveva essere in carcere da maggio 2018 Il 27enne Marocchino era stato infatti Condannato in via definitiva A 18 mesi per maltrattamenti in famiglia Dell'ex compagna Ma pensate un po' L'iter si è inceppato Quindi se effettivamente non fosse accaduto Questo errore probabilmente ciò che è avvenuto a Torino Al ragazzo poco tempo fa non sarebbe in realtà accaduto Ma insomma anche queste sono teorie Purtroppo possiamo solamente affidarci a quelli che sono i fatti attuali E i fatti dicono che l'omicidio c'è stato E ancora vediamo sulle altre testate nazionali Fatto quotidiano La raggi annuncia la fine del debito commissariato di Roma Una parte va allo Stato Ogni anno avremo 100 milioni da investire A stenersi tangentisti E intanto nella parte alta della pagina Europarlamento Cosa hanno fatto gli italiani in 5 anni Vediamo un po' Pagelle e presenze Pensate che siamo diciottesimi su 28 E Barbara Spinelli Ex lista Tsipras Al primo posto Maglia Nera invece All'ex governatore PD Renato Suono Infatti la nostra parlamentare più assidua Il 99,8% di presenze Seguita dai dem Caputo e Briano Agli ultimi posti Alessandra Mussolini Tra gli stacanovisti Trionfa invece la francese Grossetete All'ultimo posto Assoluto La finlandese Veapera E ancora il raduno Salvini resta solo con le penne Voleva i sovranisti Dell'Unione Europea Ma Orban da buca E intanto un'intervista Al neogovernatore Bardi La Lucania Non la conosco Guarderò le facce E ancora vediamo Nella parte alta della pagina L'ultima lite Tra Di Maio e Tria Conte deve rimediare E intanto Dopo Berlusconi e Renzi La Lega Partito del Cemento E intanto Vediamo nella parte centrale Della pagina Le manovre in attese Il generale che spiazza L'Italia e l'ONU Schierate con Al-Sarrai Disastro in Libia Aftar Amico di Macron In marcia su Tripoli Dopo l'offensiva militare Nel sud del paese Infatti Le armate di Benghazi Alle porte della capitale Spaleggiati da Russia Egitto e Francia E anche Roma Siamo con Le Nazioni Unite E ancora Sul tema Si hai Una minaccia Amo a vero ai tedeschi La nave di migranti Stavolta Tocca a voi E ancora Vediamo Per quanto riguarda La piattaforma Russo Casareggio Dati vecchi La multa del garante Segreto E votazioni A rischio E ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie In primo piano Lo vediamo Nella parte bassa Della pagina Comici al potere Ridi elettore E votami E infatti In Giappone Si è scomodato Addirittura Il premier Shinjo Abe Per tentare Di ingaggiare Un noto attore tv Per elezioni Amministrative Di domenica Non è la prima volta Che a Takuro Tatsumi Politico E poliedrico Attore sessantenne Il leader Del partito Conservatore Liberale Democratico Ha chiesto Di lasciare La finzione Per entrare Nel lagone politico Ma al contrario Di quanto accaduto Giorni fa In Ucraina E anni fa In Guatemala In Giappone Non avrà un governatore Strappato Al mondo Dello spettacolo E ancora Continuiamo a vedere Per quanto riguarda La musica 25 anni senza L'insostenibile nirvana Di Kurt Cobain Ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Proprio sulle testate Razionali Ancora una volta E vediamo Libero I pentastellati Lo bombardano Di cause Vediamo un po' Di chi stiamo parlando Grillo Assediato Infatti dai debiti Sono decine Gli ex di Movimento 5 Stelle Cacciati Che chiedono i danni Al comico Le regole del movimento Non reggono in tribunale E il fondatore Ha già 4 condanne Per questo Vuole mollare tutto E intanto Salvini Calcoli sul futuro Occhio Matteo La gente Si sta stufando Della Lega E intanto Caro Paolo Non allarmarti Il carroccio Non si incaglia E così Che parla Appunto Vittorio Feltri E intanto Nella parte centrale Della pagina Il premier Conte Se ne frega Dell'economia Non crea ricchezza Ma la distribuisco Tria la spunta Salta ancora L'accordo Sui risparmiatori Truffati Ed ecco qua Vediamo Una bella vignetta E intanto Usano il fascismo Per manganellare La maggioranza Sono questi I soliti Antifascisti Ai fascisti Croce Edilizia Della sinistra Che non può farne almeno Al punto che Quando non esistono Se ne inventa Qualche anno fa Corrado Guzzanti Non trovandoli sul pianeta Terra Li aveva riprodotti Su Marte Ma quella era una parodia Così volutamente Ridicola e grottesca Oggi sono i progressisti Seri A rilanciare L'allarme Camice nere E intanto Vediamo Nella parte bassa Della pagina Ancora una volta Lo Stato Tappa Il miliardario Buco Del raggi Ma lei Non tappa Le buche E intanto Vediamo Nella parte bassa Della pagina E praticate Molti paesi europei Stiamo parlando Della castrazione chimica E una cura Non un delitto Fratelli d'Italia E Lega Hanno presentato Alla Camera Un ordine del giorno Bocciato dagli altri partiti Dove si chiedeva Al governo Di impegnarsi Per introdurre Nella legislazione Proprio questa Castrazione chimica Che alla fine È stata respinta E ancora Vediamo un po' Il detenuto E l'infermiera Fanno l'amore al cellulare Capirai che scandalo E anche questo È quello che accade Ai giorni nostri Sembra tutto Sempre più Concreto Ma in realtà È sempre più Virtuale E anche il virtuale Fa scandalo Anzi direi che Fa più scandalo Di quella che è La vita concreta Anche se poi Noi come al solito Ve lo ripeto Ogni giorno Non ci rendiamo conto Che tutto ciò Che è virtuale Altro non è Che la trasposizione Del mondo reale Ed effettivamente È così E ancora vediamo Il tempo Viene giù anche Il muro di Vodafone La crisi Morde addirittura Il gruppo simbolo Della crescita Record Dei nostri Telefonini Ha dichiarato 1130 esuberi In Italia Evitati Mettendo in solidarietà 4870 dipendenti E quindi La situazione Si presenta Piuttosto grave E intanto Nella parte centrale Della pagina Ecco qua Torre Maura La star È un ragazzino Pro Roma Che così Come era accaduto Già Greta Per quanto riguarda Il mondo La vita E soprattutto Il bene Dell'ecologia Di questo pianeta Sempre più depredato Questa volta Proprio sulla vicenda Che sta riguardando La città di Roma E i Rom Ha parlato Un ragazzo Un ragazzino Che comunque Ha fatto sentire Chiara e forte La sua voce Ed ancora vediamo Gli altri fatti Libia in guerra Ora sono guai Per Salvini E compari E intanto Nella parte più bassa L'assessore alle politiche Abitative Castiglione I centri sociali Morosi Pagheranno L'arretrato E infine Nella parte bassa Della pagina Massa Sogno di vincere a Roma L'ex ferrarista Brasileo In gara Nella Formula E All'Euro Ed ancora Ci spostiamo Su un'altra testata Nazionale Vediamo il giornale Oggi Come apre Per quanto riguarda L'informazione A livello nazionale E soprattutto Per la politica Dossiere Ricatti Tremanche Salvini Politica A 5 Stelle Ombre di attività Spionistiche Tra allenati Di maggioranza E il garante Certifica Tarocabili Le votazioni Su Rousseau E intanto Vediamo Un'altra notizia Di cronaca TV morto Cesare Cadeo Aveva 72 anni Il gentleman Dello spettacolo E ancora Vediamo le altre notizie Tra sondaggi E crisi di identità Piazza O Palazzo La Lega Ancora una volta In difficoltà Intanto Nella parte bassa La bufala Grillina Sul reddito Che piace di più Al nord La fake news Di Di Maio E apro le porte Del senato A Giovani Arte E l'intervista Che viene fatta Alla Casellati Che appunto Si è dichiarata Disponibile Proprio Ad accogliere I giovani E all'arte Proprio Per dare loro Una possibilità Di creare Qualcosa di diverso Dalle situazioni Che purtroppo Li rendono partecipi E ancora vediamo Condannato a pagare La bellezza Di 64 mila euro Giravolta Grillo Di fama Poi sfrutta La prescrizione Ed intanto Nella parte bassa Della pagina La violazione Sul vincolo Deficit Pill Il totem 3% E' nato per caso E infatti è ufficiale L'austerity E' colpa di un apprendista Stregone francese Che ha usato Un numero magico Il rapporto Tra deficit E pill Al 3% Senza alcuna logica D'altronde Mettetevi voi Nei panni Di Guy Abel Funzionario Nel ministero Del bilancio Della Francia Chiamato proprio Nella notte Del 9 giugno Al telefono Dal presidente francese François E quindi Questa è la situazione Anche di chi Lavora per la Francia L'improvviso E soprattutto La magia Dei numeri Vi lascio adesso A qualche minuto Di pubblicità Dopodiché Ritorniamo qui in studio E continuiamo a parlare Di informazioni Non andate via Lavora per la Francia 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 All'incrocio tra Caserta E il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso Progetto di riqualificazione Industriale Che ha messo La qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale Di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Bentornati in studio Siamo ancora pronti Per vedere Quelle che sono Le informazioni Sulle testate nazionali E continuiamo La nostra La nostra rassegna Proprio dalla prima pagina Della Repubblica E vediamo che la Lega È abbaiata dal potere Di Maio Va all'attacco Vogliono prendersi Tutto I leghisti Basta con i no Troppe lentezze Nel governo Banche Ancora un rinvio Ancora un rinvio Sui rimborsi Ai risparmiatori Truffati Tria Si smarca Nel DEF Solo numeri veri E insomma Vediamo Quelli che sono Il punto All'ordine del giorno La trappola 5 stelle Ed intanto Riace Abolita Dai giudici E invece Il caso Errore nella legge Così Il reddito Di cittadinanza Rischia di slittare Ed intanto Vediamo Nell'immagine Una vicenda Che sembra Sempre più cruente Infatti In Mozambico L'apocalisse Negli occhi Dei bambini Possiamo vedere Proprio In questa immagine Tutto quanto Di brutto Può essere raccontato E infine Vediamo Nella parte bassa Della pagina Eccoci qua La lezione civile Di Simone Il ragazzo Che ha sfidato Casa Pound A Roma La periferia Degli umiliati Viene raccontata Appunto Da Repubblica Che narra Questa vicenda Sempre più Brutta Dai risvolti Sempre più torbidi Di questi Rom Che si trovano A Roma E soprattutto Di chi si trova A vivere Delle situazioni Sempre più precarie Ancora vediamo Proprio dal messaggero Le notizie Che riguardano La città di Roma Però partiamo Anche qui Dalla politica Banche Pasticcio Rimborsi Scontro tra Lega Edimaio L'Ite al CDM L'Ite al Movimento 5 Stelle Contro Tria Salvini Troppi no Tutto rinviato a martedì L'ipotesi Che sia Conte A firmare il decreto Ok Al pacchetto Crescita Sgravi Per le imprese Intanto La partita Con la Francia Ora l'Italia Deve correre Ai ripari Sulla Libia E intanto Per il garante Della privacy La piattaforma Rousseau Ha il voto Manipolabile E questa È un allarme Sempre più forte Intanto Nella parte centrale Eventi di guerra Nella capitale Serrai si difende Con i caccia Aftar in marcia A sedio a Tripoli Il mondo resta Con il fiato Sospeso E ancora Sui Rom Tensioni Altre periferie A rischio Raggi Teme All'escalation Oggi Vertice Sulla sicurezza Dopo Torre Maura In fuga Alcuni nomadi Durante Il trasferimento Intanto Salvini Stoppa Siai ONG Con i migranti Verso Lampedusa E nella parte Bassa Della pagina Vediamo Un titolo Che ci sorprende Tutti Ed è Stupro di Napoli Tutti liberi Lei ha mentito Circonvesuviana I giudici Non credono Alla ragazza Fuori il terzo Accusato Ed ancora Parliamo Di Torino L'omicidio Dei Murazzi Il killer Di Leo Doveva essere In carcere Era libero Per un ritardo Del tribunale Ancora Vediamo Le testate nazionali Ci spostiamo Adesso Sul mattino Andiamo A analizzare Nei particolari I fatti Che questa mattina Ci lasciano Più perplessi Intanto Partiamo Dalla parte Alta Della pagina Vediamo Che a Napoli Infatti Si è aperto Il sonone Del libro Memoria di Pippo Quella sera Che accompagna Il totò Alla sanità Insomma Racconti Fatti Proprio In una vita Spesa L'ambito Dello spettacolo E ancora Un caso Nel Napoli Allan Sindrome Parigi Il calo Del brasiliano Non è Soltanto Fisico Ed infine Il torneo Finito L'insostenibile Noia Della serie A A 20 squadre E soprattutto Dalla Juve E ancora Vediamo Le altre notizie In primo piano Vediamo Ciò che riguarda La parte Relativa All'Italia Banche Stop Rimborsi Salvini Così salta Tutto L'Ital CDM Di Maio Isolato Contro Tria Salva Truffati Misure Rinviate A martedì Sia Il decreto Crescita Sgravi Alle imprese E intanto Nell'articolo Di apertura Circo Vesuviana Non è stato Stupro La ragazza Racconta Bugie Il riesame Rapporto Consenziente I video Scagionano I tre giovani Arrestati La cartella clinica Bugiarda Patologica Che vive il sesso In maniera Complessa Questo racconta In questo giorno Il mattino Lo andremo a vedere Nei particolari Dopo Giusto per farci Un'idea Di questa situazione Ed intanto Continuiamo a vedere Le prime notizie Che vediamo Proprio su questa Prima pagina La polveriera Serrai Minaccia Rai d'aere Libia fuori controllo E guerra Aftar In marcia Verso Tripoli E l'Italia Rischia tre schiaffi E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Pensate un po' Sulla piattaforma Russo Iscritti a loro insaputa I voti manipolabili E questo che dice Il garante della privacy Che multa Davide Casaleggio Profili Fantasma E spulso Un candidato campano Infatti Iscritti a loro insaputa I voti manipolati Il garante della privacy Multa la piattaforma Russo Con una sanzione Da 50 mila euro E ammonisce Casaleggio Chiedendo azioni Per mettere in sicurezza I dati degli utenti Questo non è il giorno In cui un candidato campano Viene espulso Per i profili Fantasma Utilizzati Per le euro Parlamentarie E ancora L'inchiesta Così in Svezia Si insabbiano Pensate un po' Anche gli scandali E nella parte bassa Della pagina Fa ancora scalpore Questa notizia Che viene proprio Da Sant'Agata De Goti Le passionarie In catene Per salvare L'ospedale A vederle Così tranquille Così pacifiche Non diresti Che proprio Queste donne Sono diventate Da cinque giorni Le eroine Di tutta L'area Telesina Il problema È l'ospedale Proprio di Sant'Agata De Goti Già ieri Abbiamo parlato Proprio di quanto Il ministro Grillo Ha promesso A queste donne Ma anche uomini Che si sono incatenati E hanno deciso Di fare lo sciopero Della fame Proprio perché Vogliono che i loro diritti Siano in primo piano E non vengano accantonati Insomma Una forma di protesta Pacifica Nei confronti del mondo Ma meno pacifica Nei confronti di se stessi Perché andando avanti Così la situazione Potrebbe degenerare Insomma Però è un modo Per raccontare I fatti A chi comunque Non li conosce E per farsi davvero Sentire E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Il gazzettino Banche Il pasticcio Rimborsi Un'altra fumata nera Dopo la lite in consiglio Dei ministri Sui criteri Dei risarcimenti Ai truffati Scontri di maiotria Misure rinviate A martedì L'idea della Lega Troppi no Serve un cambio Di passo E intanto L'Italia deve correre Ai ripari Sulla Libia E ancora anche qui L'inchiesta a Svezia Dalle banche Alle TLC Il paese Insabbia Gli scandali E ancora Vediamo Gli altri fatti In primo piano Consulenze Appalti Maxi Stangata Dirigente regionale In appello In appello ha aumentato Il risarcimento A favore della regione Veneto 500 mila euro E intanto Nella parte centrale Della pagina L'allarme Meno Culle Più reparti Per anziani E anche qui Vorrei lanciare Un Vorrei spezzare Una lancia Proprio a favore Della vita Anche perché Troppo spesso Si dice Sì è vero Che nascono Pochi bambini E ci sono Molti più anziani In proporzione Però la realtà È anche un'altra La vita si è allungata Proprio in termini Di salute Di percezione Della vita stessa E di conseguenza Il rapporto Inevitabilmente Si amplia E si allarga Questa è una situazione Che comunque A prescindere da tutto Dobbiamo andare Ad esaminare Nella Nella presenza Più totale E non semplicemente Nell'annuncio Allarmistico E ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina Gigli e Serpenti La sfida Dei maestri Del tatuaggio E anche qui Vediamo Da Napoli Stupro In stazione Liberi Gli accusati I giudici Dicono Lei Mente E ancora Ci spostiamo Sulle altre Pagine nazionali Vediamo Il manifesto Questa mattina Come racconta I fatti Tria non cede Niente accordo Rimborsi Ai truffati Dalle banche Nuovo rinvio E ancora Vediamo Che il reddito Per cento Degli under 30 E nella parte centrale Della pagina Ecco qua Visto che oggi In primo piano C'è proprio La piattaforma Russo Viene definita Da questo quotidiano Lo vediamo insieme La piattaforma Truffo E multa Da 50 mila euro Per la piattaforma Russo Bocciata su tutta La linea Per il garante Della privacy L'associazione Di casaleggio Non garantisce La regolarità E l'anonimato Del voto online E manipolabile Le correzioni Apportate dai 5 stelle Inadeguate E ancora Continuiamo a vedere I fatti In primo piano Ci spostiamo adesso Sulle testate Economiche Vediamo il sole 24 ore Oggi come ci presenta La situazione E ok Al decreto Legge Crescita Rinvio Sulle banche Una svolta Necessaria Da mettere Alla prova Intanto I risparmiatori Lunedì Con le associazioni Al tavolo E nella parte centrale Della pagina Si parla di aerospazio Crisi Piaggio Aero La grande fuga Di tecnici E ingegneri Si continua Ancora ad andare fuori Intanto Nella parte bassa L'economia tedesca Anche questa In difficoltà A febbraio Ordini giù Del 4,2% E infine Telecomunicazioni Non esuberi Vodafone Italia Accordo con i sindacati Solidarietà Per 4.870 Lavoratori E insomma Ancora una situazione Precaria Proprio per questa Anche per questo Strumento Per questa azienda Di telefonia Che è talmente Forte Eppure a quanto pare Si trova a vivere Un forte momento Di crisi Ancora vediamo Sull'economia Italia Oggi Profitti Reinvestiti Meno Ires Nel decreto Crescita Anche il ritorno Del superammortamento La modifica Ipirra L'aumento Della deducibilità Dell'Imu Le garanzie statali Sui prestiti E questo Vediamo Il decreto Crescita Nei particolari Le misure Più importanti Superammortamento La revisione Mini Ires La deducibilità Imu La patent box Credito di imposta R ed S Regime forfettario Aggregazioni tra imprese Pir Rottamazione Tributi locali Warfare Giovani professionisti Mini bond Nuova Sabatini Sostegno alla capitalizzazione Tempi di pagamento Tra imprese Ed ancora L'edilizia privata La società di investimento Semplice Marchi storici Di interesse nazionale Infatti In arrivo in fondo Del Mise Per la tutela Dei marchi storici Ossia i marchi Registrati da almeno 50 anni Con dotazione di 100 milioni di euro Previste misure Per la salvaguardia Delle aziende titolari Di tali marchi E dei relativi livelli Occupazionali Disincentivando La decodelocalizzazione Ed ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano Il più bel museo del mondo È sorto nel Qatar E i supermercati Si salvano con Gli shopping shop Ed infine L'editore del foglio Punta adesso Sulla gazzetta Del mezzogiorno E questo è il rush finale Ed infine Una linea di metropolitana Tra il centro di Catania E l'aeroporto Per 350 milioni Concessi Dall'Unione Europea E ancora Vediamo i fatti Dello sport Con il Corriere dello sport Mai più Il CT Mancini Va giù duro Basta con i bu Sono insopportabili Bonucci Balo ci penso io E vediamo infatti L'intervista esclusiva Razzisti Ignoranti De Frelle per lo stop Chiudere le curve Davanti agli ululati Effettivamente Non se ne può più E intanto Nella parte centrale Della pagina Il prezzo è Zaniolo Scoppia infatti Un caso sul futuro Del nuovo gioiello La Roma vuole trattenerlo Ma se fallisce la Champions Deve ridimensionarsi E Nicolò Finisce sul mercato 50 milioni Da valutazione City Real e Juve In Aguato Ed ancora vediamo Un'altra testata sportiva Tutto sport Il 4 maggio In Parlamento In campo anche Il Toro Club Montecitorio Derby Serve un'altra data La Lega di A Disponibili a cambiare Intanto in Coppa Italia A primavera Oggi a Firenze La finale di andata E nella parte centrale La pagina Anche qui Zaniolo La verità Intervista a papà Igor Ex calciatore professionista Mio figlio Rinnova con la Roma Se poi il club Dovrà sacrificarlo In Italia ci sono due squadre Juve e Inter In retroscena Fu il babbo di Bernardeschi A segnalarlo Alla Fiorentina E per quanto riguarda Le notizie In primo piano Dalle testate nazionali Per oggi è tutto Vi lascio ad altri Due minuti Giusto un paio Di pubblicità Ritorniamo subito dopo E vediamo proprio I fatti Della regione campagna Non andate via Alla Fiorentina Alla Fiorentina Alla Fiorentina All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Ed eccoci di nuovo in studio Bentornati a tutti voi Vi ricordo che oggi è venerdì 5 aprile E siamo nel vivo della rassegna stampa Adesso passiamo proprio ai fatti che riguardano la regione campagna E vediamo direttamente quella che oggi rappresenta Un'apertura per tutte le testate locali Ma anche con uno spunto su quelle nazionali Che riguarda appunto Quella che è stato definito lo stupro della circunvesuviana Che oggi sembra essere stata dichiarata dai giudici Assolutamente una bugia Infatti vediamo che cosa dicono i giudici Non fu stupro nella stazione circunvesuviana Libero anche il terzo giovane indagato Per il riesame la ragazza ha mentito Non accertato il dissenso E infatti non è raggiunta allo stato degli atti La soglia della gravità in ordine al dissenso Alla consumazione dei rapporti È uno dei passaggi contenuti all'interno delle motivazioni Con le quali i giudici del riesame di Napoli Hanno scarcerato anche Raffaele Borrelli Il terzo indagato per la presunta violenza sessuale Nell'ascensore della stazione della circunvesuviana Ai danni di una 24enne di Portici Nel pomeriggio del 5 marzo Nei giorni scorsi erano tornati in libertà Anche gli altri due ragazzi Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino Dalle pagine al tribunale si desume che per i giudici La ragazza non ha detto la verità E ha mentito anche a causa delle patologie di cui soffre La 24enne è infatti in cura da tempo in un centro di salute mentale Per combattere una forma di anoressia Che l'aveva portata a pesare 28 kg Da qui la convinzione dei giudici di ritenere insussistenti Gli indizi a carico dei tre giovani La decisione sulle tre scarcerazioni è stata assunta dai collegi Composti dai giudici Antonio Pepe, Vito Purcaro, Maria Vittoria Foschini e Sabrina Calabrese A minare la credibilità del racconto della ragazza per i giudici del riesame Assumono fondamentale rilevanza le videoriprese delle telecamere della circunvesuviana Insomma secondo questa dicitura e secondo quanto raccontato dai giudici Quel martedì insomma Stando alle motivazioni del collegio nella fase terminale del presunto stupro I magistrati visionano le immagini e colgono una situazione connotata da esteriore tranquillità Anche quando i tre ricompaiono una volta fuori dall'ascensore I due indagati escono insieme alla ragazza perfettamente ricomposta nel vestiario Con il cellulare in mano e la borsa a tracolla in condizioni di apparente tranquillità Insomma per noi rimane ancora tutto un mistero per i giudici A quanto pare la chiarezza è arrivata E ancora vediamo le altre notizie in primo piano CNR uso in proprio dei fondi Sciopero bianco dei ricercatori La protesta da Napoli si è stesa in tutta Italia La mobilitazione riguarda 250 in campagna 900 nel resto del paese Le risorse per i nostri progetti finiscono nella gestione delle direzioni E ancora vediamo appunto la protesta per tutelare la libertà della ricerca Chiedono il ritiro di circolari illegittimi che imbrogliano il loro lavoro e riducono la ricerca ad un'attività impiegatizia Chiedono che i continui ostacoli posti al loro lavoro vengono rimossi e che vengano cancellati legacci burocratici Che minano l'impegno dei ricercatori Insomma si protesta a CNR proprio per una situazione che è sempre più precaria E rappresenta una mina importante alla loro attività E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Si parla di Salone del Libro ma in particolare si parla di un rapporto che nei giorni scorsi Ma già in precedenza è sempre stato molto molto complicato Ossia quello tra il governatore della regione Campania e il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris Nella foto vediamo infatti che i due si scambiano un saluto Cosa che spesso non avviene E titola proprio così La Repubblica Oggi Stretta di mano tra De Luca e De Magistris Salone del Libro e il sindaco immediatamente commenta Sono un signore E intanto vediamo che il primo ad essere arrivato al castello è stato il presidente De Luca Che dopo una visita agli stand si è accomodato in auditorio per l'inaugurazione Qui più tardi è giunto il sindaco De Magistris Che è salito sul palco Ha stretto la mano al governatore e a presenti Da diversi giorni tra i due rappresentanti delle istituzioni si è registrato un'assenza di contatti e relazioni E insomma questo è quello che abbiamo visto anche nella giornata di ieri Proprio in relazione alle universia di quando non c'era stato neanche un saluto minimo tra i due Ancora vediamo gli altri fatti In primo piano ci spostiamo sul mattino Litorane ha sgomberato le faveras dei migranti con 10 clandestini È stato infatti un blitz delle forze dell'ordine nei tuguri di Campolongo Alla periferia di Eboli Più di 200 poliziotti, carabinieri e finanzieri Hanno sgomberato un'area di circa 30.000 metri quadri Poco lontano dal Campolongo ospita Alla ridosso del litorale ebolitano Nelle piccole abitazioni vivevano in precarie condizioni Quasi un centinaio di stranieri per la maggior parte nordafricani è proveniente dal Mali Tra cui una decina di uomini clandestini Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano Ancora cronaca Spari e paura in pieno giorno Una smart nel mirino dei banditi Infatti sarebbe stata proprio questa la smart Nell'obiettivo dei sicari che gli hanno intorno alle 12 di ieri Avrebbero esploso dei colpi di pistola in strada Nei pressi del parco del mercatello Polizia blindata ed indagini in corso Per il giallo di quella che è stata la giornata Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano Ancora una volta cronaca A Napoli in ospedale con tre coltellate al torace Volevano rapinarmi a dirlo è un 23enne di Pozzuoli Che è giunto ferito all'ospedale San Paolo di Napoli Ferito da tre coltellate nella zona posteriore del torace Il giovane è stato accompagnato al presidio di fuori grotta Dove i sanitari lo hanno sottoposto a tacche ed esami diagnostici Per valutare la criticità dei fendenti ed eventuali lesioni interne degli organi Ed ancora un blitz in piena regola Al disco bar 7 di Gomorra rubava corrente alla rete pubblica E infatti per non pagare la corrente utilizzavano l'energia elettrica pubblica Allacciandosi alla rete stradale Non è accaduto nei vicoli di Forcella E nemmeno in uno dei rioni della periferia degradata di Napoli Ma fuori grotta E a finire nei guai sono stati i titolari del disco bar Planet di Viale Kennedy All'interno del quale vennero girate alcune scene della serie TV Gomorra Tra le quali proprio quella dell'agguato a Ciro l'Immortale Insomma la realtà supera la fantasia E ci troviamo proprio in balia di queste situazioni Ancora vediamo le notizie che arrivano dal Casertano Ancora cronaca blitz in via Roma Maddaloni è arrestato un 23enne con la droga I poliziotti lo hanno fermato su uno scooter E vediamo infatti che la polizia del commissariato di Maddaloni Ha proceduto all'arresto a Maddaloni per spaccio e sostanze stupefacenti Di un 23enne sempre di Maddaloni Ma con precedenti specifici In particolare all'arresto dello spacciatore Si è giunti durante un'attività del commissariato DPS di Maddaloni A fine di contrastare il degenerante fenomeno dello spaccio In dettaglio durante un pattugliamento in via Roma Maddaloni il personale della volante ha notato un giovane con un atteggiamento sospetto E i poliziotti in modo discreto lo hanno seguito senza essere notati Fino a bloccarlo mentre si arriva a bordo del suo ciclomotore Nel tentativo di allontanarsi indisturbato Considerando che la zona in questione spesso frequentava persone Dedita allo spaccio di droga I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione Sia nei confronti del giovane che del suo ciclomotore A seguito del quale hanno rinvenuto circa 50 grammi di hashish Unitamente a un coltello utilizzato per il taglio della sostanza A un cospicuo quantitativo di denaro Ed ancora sempre per quanto riguarda le pagine di Caserta News La cronaca stamattina è tantissima Da Casaluce Schiavone racconta gli affari degli imprenditori legati ai bidognetti Il business immobiliare del clan Loro comprarono il terreno Noi imponemmo le forniture con le nostre ditte E infatti questo viene raccontato Uno scippo e il terreno su cui il clan Schiavone aveva acceso i propri interessi Venne venduto ad imprenditori ritenuti vicini al gruppo dei bidognetti Emergono così nuovi retroscena sull'operazione immobiliare del clan dei Casalesi Su un'area nei pressi di un mobilificio a Casaluce A rivelare lo strappo ai magistrati della DDA di Napoli È stato Nicola Schiavone figlio del capo clan Francesco Detto Sandocan E ancora si parla di rifiuti interreati Questa volta scoperti nel cantiere Per il raddoppio dello scalo ferroviario dell'Interporto Ancora una vicenda che riguarda Maddaloni Vediamo nella foto i ritrovamenti E infatti i militari della stazione Carabinieri Forestali di Marcianise Unitamente al personale ARPAC di Caserta Che cosa hanno fatto? Su richiesta di intervento da parte del direttore dei lavori Due distinte opere pubbliche O le quali è stato segnalato di aver rivenuto casualmente Nel corso dei lavori di escavazione Delle discariche abusive e di rifiuti pericolosi Interrati si sono portati sul posto E hanno effettivamente riscontrato quanto posto in evidenza Nei due cantieri Previa caratterizzazione dei rifiuti A cura dell'ARPAC I carabinieri forestali hanno proceduto Di iniziativa all'immediato sequestro giudiziario Delle due discariche abusive E ci spostiamo adesso su Caserta Prima pagina Anche qui vediamo una notizia di cronaca in primo piano Dottoressa spinta e minacciata dal vicino di casa E infatti arriva dinanzi al giudice penale del Tribunale Santa Maria Capo Vetere questa vicenda giudiziaria è carica di Roberto P. Di Capo a 44 anni Per il quale è stata firmata una nuova richiesta di rinvio a giudizio Da parte dei sostituti procuratori della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Santa Maria Capo Vetere A denunciarlo questa volta una dottoressa Un'altra sua vicina di casa nel parco condominiale Sempre nella città di Capo Che tempo fa presentò infatti una querela contro di lui Secondo l'accusa l'uomo minacciò la dottoressa con frasi ingiuriose Da lui pronunciate per futili motivi E l'ha spinto o no con forza Tanto che fu necessario il ricovero in ospedale della donna Ed ancora ci spostiamo sempre su Caserta Prima pagina Terminiamo la rassegna stampa con un ultimo articolo Però questa volta evitiamo la cronaca Ma diamo una buona notizia Infatti si parla di ludopatie ed altre dipendenze Però in questo caso Caserta avrà un centro di urno In via degli Oleandri E infatti prosegue l'attività dell'amministrazione comunale In particolare in un immobile comunale Circa 160 metri quadri di via degli Oleandri Sorgerà un centro di urno dell'Asda Caserta Che ospiterà iniziative di contrasto Alle dipendenze comportamentali a partire dalle ludopatie L'intesa con l'Asda di Caserta Spiega il sindaco Consentirà di valorizzare Con spese di ripristino Rifunzionalizzazione e allestimento A totale carico dell'azienda sanitaria locale Un immobile inoccupato di via degli Oleandri Destinandola a tutte le attività che il servizio sanitario nazionale E lo stesso ente Possono realizzare a servizio delle persone che vivono dipendenze Non da sostanze tossiche ma da gioco d'azzardo Da internet e da altre patologie comportamentali Insomma l'amministrazione comunale è proprio in primo piano Per sconfiggere queste dipendenze E stare a fianco a chi comunque si trova attanagliato Proprio da queste stesse dipendenze E per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi Anche questa mattina siamo arrivati al termine Vi ringrazio per essere stati con noi E soprattutto ringrazio Tecnocampus Che come ogni giorno ci offre la possibilità Di darvi l'informazione a 360 gradi Sull'Italia ma anche in particolare sulla nostra città Qual è? Caserta A voi tutti una buona giornata E vi do appuntamento alla prossima rassegna stampa Intanto continuate a seguire i programmi di Teleprima Questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.